Buongiorno a tutti, ringrazio della partecipazione, prosegue quindi il nostro ciclo di webinar dedicati all'emergenza Covid, in realtà probabilmente questo può essere uno, non dico degli ultimi, relativamente alle piattaforme per la didattica digitale, semplicemente perché le università hanno già ampiamente coperto questa esigenza, però ci sembrava corretto dare una visione anche di Panopto, tenuto conto che dalla rilevazione che abbiamo fatto a livello nazionale è risultata una delle piattaforme utilizzate agli Atenei per fare fronte all'emergenza Covid. Come sempre lo spirito con cui stiamo conducendo questi webinar è quello di dare informazione e di rendere disponibili le esperienze delle università affinché possano essere ispirazione per altre università a un momento di confronto. Per questo motivo abbiamo chiesto all'Università degli Studi di Verona, che lo utilizza, di appunto presentare il loro caso e il modo in cui l'hanno utilizzato e eventuali future implementazioni. In questo momento diciamo che stiamo, tutte le università sono settate più sulla fase, do qualche informazione così di servizio, più sulla fase chiaramente due e tre che sono imminenti, diciamo più sugli esami scritti su cui abbiamo fatto qualche giorno fa settimana scorsa se non erro un approfondimento e poi chiaramente tutto quello che riguarda diciamo anche i test di ammissione, i test di ingresso, i talk e quant'altro. Anche su questo nei prossimi giorni organizzeremo dei webinar che hanno sempre come scopo quello di darvi informazione sullo stato dell'arte e diciamo un momento di aggregazione, di condivisione di quello che è diciamo la situazione, l'orientamento nelle università. Sulla pagina poi vi condividerò a webinar iniziato vi condividerò la solita pagina in cui abbiamo condiviso tutte le informazioni relative all'emergenza covid, è diventato un cruscotto piuttosto interessante perché oltre a dare un overview di quali sono state le vostre iniziative e quindi abbiamo linkato tutte le pagine dei siti degli atenei che ce l'hanno comunicato dedicate appunto all'emergenza covid, abbiamo pubblicato in questa pagina abbiamo pubblicato in questa pagina le iniziative, le principali iniziative in corso quindi i survey, i nostri webinar tutti registrati, adesso ci sarà gratuitamente anche un corso su dal titolo ripensare la didattica attraverso la tecnologia, abbiamo pubblicato le principali estensioni dei browser per consentire la grid view necessaria appunto per gli esami a distanza, ricordo che c'è anche l'estensione sviluppata da Antonio Cisternino dell'Università di Pisa del gruppo di lavoro della Cruy relativamente a Teams e poi abbiamo pubblicato tutte diciamo le proposte dei partner IT della Cruy che sono state offerte gratuitamente per gli atenei per questo periodo del covid, tra l'altro stiamo in attesa di avere da Adobe conferma dell'estensione della gratuità per gli studenti della Creative Cloud Suite fino a luglio comunque anche per un periodo maggiore per supportare questo periodo. Io per il momento non ho altro da dire, lascio la parola che ci sono iniziata quindi per diciamo per iniziare il webinar. Non so se Debra ci teneva di Panopto a dare un saluto di indirizzo e poi possiamo cominciare con il webinar. Prego. Debra? Hi everybody. Sorry, I was just waiting to hear my name. Good morning. Buongiorno. I'm Debra Gerritson. I'm a Director of Accounts for Panopto. I've been with Panopto since the beginning. I'm based in the London office, but I'm American. You can probably tell from my accent. We're very happy to be here today and to help the Italian universities. We work with over a thousand universities globally and we helped all of them go completely online even during the pandemic to make sure no students are disadvantaged. So we have our partners with us today. Sedor, Alessandro. We'll talk a bit more about Panopto as he speaks Italian as well as our first university in Italy, the University of Verona, to talk about their story, how they went completely online. So thank you all very much. Thank you. Thank you, Lebra. Prego, Alessandro. Grazie mille. Allora, capisco che avrò circa una ventina di minuti per poter fare quella che farò una presentazione della piattaforma Panopto e soprattutto nello spirito di questa iniziativa porterò alcuni esempi di utilizzo della piattaforma che appunto possono essere utili in questa fase di risposta all'emergenza dovuta al coronavirus, di garantire una formazione online per gli studenti, ma anche e soprattutto in visione di quelle che saranno la seconda e la terza fase, vale a dire una riapertura dell'università, un rientro graduale e controllato all'attività formativa tradizionale. L'università hanno saputo in Italia reagire con una risposta all'emergenza dovuta appunto al coronavirus e sappiamo che praticamente oramai il 96% delle formazioni viene erogata tramite web, quindi nella presentazione mostrerò anche come Panopto può integrarsi con quelle che sono le tecnologie oggigiorno utilizzate per la maggior parte da parte dell'università per questo tipo di finalità. Allora, mi conferma che si riesce a vedere quello che sto condividendo, dottor Amprosi? Sì, sì, le confermo, vediamo perfettamente. Benissimo. Chiaramente, mi scusi, io non l'ho detto ma lo do ormai per scontato, è un webinar sempre con spirito di servizio, quindi qualunque richiesta o domanda intervenite avendo il microfono oppure scrivetelo in chat e ne daremo lettura, così come dopo, quando l'università di Verona presenterà la propria esperienza, diciamo, quello potrebbe essere il caso in quel momento in cui se avete domande relativamente a richieste particolari, l'università di Verona insomma è ben lieta di dare risposte su quanto di vostro interesse. Grazie, grazie. Grazie mille. Una slide giusto per far sapere, per l'appunto, che Panopto è una società che sviluppa tecnologie software, utilizzata ad oggi da circa 10 milioni di utenti e oltre 1000 università a livello globale, tant'è che oltre circa 23 delle prime 25 università di tipo tradizionale utilizzano Panopto proprio come strumento supporto delle loro esigenze relative all'acquisizione e alla gestione di contenuti di tipo video per la formazione. Nel contesto di quelli che sono i fornitori di tecnologie e software Panopto, diciamo, ha un certo record di successo essendo riconosciuto da Gartner come fra le società più innovatori e strategiche per quanto riguarda le soluzioni di video content management system ed è una delle poche che lavora con focus soprattutto sulle università. Per parlare appunto di tecnologia, il punto di vista dal quale volevo partire è appunto l'esigenza e il caso di uso di Panopto. È un software, quindi non richiede l'acquisto di alcun tipo di hardware, ma è un software che è nato proprio per poter permettere la registrazione delle lezioni e quindi alla base della sua diffusione sta il supporto per la maggior parte dei dispositivi hardware. E quindi qua possiamo pensare ad una fase 3 in cui bisogna riaprire le università e riprendere le attività di formazione, con anche un approccio di ripensare ad una forma di formazione, a forme e modalità di formazione differenti. E Panopto può essere molto utile per questo tipo di iniziativa perché non soltanto può essere usato per le lezioni in grandi aule, classici eventi istituzionali, ma anche in piccole aule. Può supportare tecnologie di audio-video professionale, ma anche tecnologie di tipo commerciale, quindi per poter permettere un utilizzo anche dal tempo zero di riapertura di qualunque soluzione hardware presente. Si integra con gli strumenti hardware più diffusi per quanto riguarda la registrazione di eventi, gestisce più stream video, ma allo stesso tempo permette un utilizzo di registrazione via software anche per singole sorgenti video. E arriviamo qui ad un altro aspetto che appunto parliamo di formazione a distanza. Panopto può essere utilizzato per fare sessioni live in streaming, quindi parliamo di webinar, trasmissioni di lezione a numeri che superano i 500 utenti, con numeri garantiti dalla tecnologia anche di svariati e decine di migliaia di persone che possono seguire gli eventi. Ed è per questo che viene utilizzato molto spesso anche per gli eventi di opening degli anni accademici, piuttosto che per mandare in live sessioni particolari. È una tecnologia molto flessibile per quanto riguarda il supporto dell'hardware e permette di lavorare da qualunque luogo, anche quindi dalle mura domestiche e anche in maniera diciamo così disconnessa, perché permette di fare registrazioni che possono essere gestite poi per quella che è la progettazione della propria formazione offerta didattica supportata da tecnologie digitali. L'aspetto caratteristico di Panopto è che è un'unica piattaforma e quindi personale tecnico amministrativo e docenti dovranno apprendere l'uso di uno strumento che è trasversale per tutte le loro esigenze di registrazione. Per capire anche, più nello specifico, esempi e casi di utilizzo, vorrei mostrare il sondaggio che Panopto fa ogni anno relativo all'uso che fanno le università nel caso specifico a livello europeo. Questo sondaggio è incluso all'Inghilterra anche perché al tempo faceva ancora parte dell'Unione Europea. Quello che si può notare è che fra i primi dieci casi di utilizzo di Panopto, beh, il caso principale è l'utilizzo come strumento per la registrazione delle lezioni. Benissimo. Mentre l'utilizzo come strumento per gestione di contenuti non è chiaramente il punto chiave, per quanto Gartner la identifichi come società che lavori in questo contesto. Interessante è che cosa sta nel mezzo e soprattutto i primi elementi, voglio dire l'utilizzo di Panopto, oltre l'80%, circa l'80% degli intervistati ha detto di utilizzare Panopto per le classi di tipo flipped, quindi classi ribaltate, piuttosto che per la formazione a distanza, quindi supporto per quella che è l'esigenza dello studente di apprendere tramite modalità di didattica a distanza. Entriamo invece nella parte un po' più interessante, circa il 70% delle persone ha riconosciuto Panopto come strumento per registrare dei feedback da parte degli studenti e questo è un approccio abbastanza innovativo all'uso delle tecnologie che le università in genere mettono a disposizione di docenti perché prevede un utilizzo anche da parte degli studenti, così come per la creazione di video tutorial che dimostrano esempi di utilizzo di Panopto e questo può essere molto utile se si parla di esperienze di tipo di laboratorio. Laboratori didattici e presentare a degli studenti che magari sono da remoto, che non possono raggiungere l'istituto, le dotazioni e le attrezzature delle università e poi quello che dicevo, webcasting e streaming live di eventi. Per arrivare al motivo del perché Panopto è stato scelto, il sondaggio lo richiede e la maggior parte delle risposte è perché permette di migliorare l'esperienza complessiva di apprendimento dello studente. e quindi si arriva proprio nel vivo di quello che è uno degli obiettivi nell'uso di queste tecnologie, cioè garantire una formazione appropriata degli studenti per poter mantenerli coinvolti, per permettergli di proseguire nei suoi studi e limitare l'abbandono, ma anche incentivarli a scegliere l'università come università in cui decidere di dedicare la propria formazione, il proprio percorso di formazione personale. Quindi software, abbiamo visto supporto per la maggior parte degli hardware, adesso mostrerò la tecnologia Panopto, che è un unico ambiente, un'unica piattaforma, quindi sono diverse modalità di utilizzo, ma è un'unica interfaccia, parlando appunto del gestore dei video, gestore dei video attraverso il quale è possibile creare una raccolta di contenuti, ma come dicevo prima non è questo il motivo principale per cui si può scegliere Panopto e proprio sta nelle capacità di gestione di questi contenuti video che Panopto mette a disposizione. Il primo elemento è quello dell'integrazione con altri sistemi. Sappiamo che oggigiorno i video, molti studenti, molti docenti vedono come principale elemento per poter distribuire dei video per la formazione nel Learning Management System e quindi Panopto si integra nativamente con i più diffusi Learning Management System, come Moodle, come Blackboard, Sakai e Panopto è una tecnologia software as a service in cloud, i server sono in Irlanda, sono tipo AWS, GDPR compliant e proprio perché in cloud non va ad appesantire le prestazioni del Learning Management System. Quindi questo è un altro aspetto importante perché lo studente non deve attendere che il sistema carichi il video e permette di visualizzarlo. Ma allo stesso tempo il flusso di lavoro è istantaneo, vale a dire che il docente crea l'evento, la sessione Panopto nel Learning Management System, fa la registrazione che può essere una registrazione d'aula, una registrazione fatta a casa e in automatico il video viene caricato e reso disponibile nel Learning Management System, piuttosto che la sessione di webcast, un utilizzo che in genere viene fatto in Italia per la formazione a distanza, dove è necessario garantire tramite l'uso di una piattaforma di Learning Management System la formazione a numeri anche elevati di persone, quindi è possibile fare sessioni di webcast integrate nel Learning Management System con Panopto. La caratteristica di Panopto, che è unica, è quella che qualunque contenuto video caricato nella piattaforma è ricercabile e qui può aiutare un'analogia, pensare a i contenuti video come dei libri e a Panopto come una biblioteca. La prima esigenza è quella quindi di cercare il video e quindi è necessario avere un indice, uno strumento per poter identificare il libro nella biblioteca e normalmente gli strumenti di gestione dei contenuti usano il titolo, ma una volta che tu hai il libro a disposizione e sei interessato a un contenuto, devi leggerlo tutto per poter raggiungere l'informazione che ti interessa. Panopto cosa fa? Tutti i video caricati nel suo ambiente di gestione video vengono scansiti, si fa un riconoscimento del parlato e dello scritto, cosicché è possibile fare una ricerca contestuale per parole chiave anche all'interno dei contenuti del video. Si parla di usabilità e usabilità è un aspetto associato anche all'accessibilità. Panopto ha anche un player video, un player video che è pensato per l'utilizzo anche da persone con disabilità, ad esempio persone non vedenti. I video, dicevo, i video caricati vengono automaticamente riconosciuto e parlato, quindi viene generato automaticamente i sottotitoli, è possibile permettere la visualizzazione con l'adattamento del contrasto e dei font del sottotitolo sul video, ma anche è possibile indicizzare, creare dei contenuti testuali che permettono la navigazione all'interno del video stesso, altro aspetto di accessibilità. Così come il player Panopto è navigabile da tastiera e permette l'uso di screen reader, appunto per la lettura della parte testuale. VCAG 2.1 è la richiesta Agit per quanto riguarda l'accessibilità attuale, quindi garantisce l'usabilità anche da app e da dispositivi mobili. Parlando di contenuti, la finalità è quella formativa, quindi si parla anche di verificare l'apprendimento delle persone. È possibile arricchire di contenuti i video e quindi rendere con l'analogia del libro da un libro cartaceo, un libro digitale, inserendo elementi come quiz, risposta multipla, più risposte, la possibilità di compilare con le risposte e le domande e questi quiz vengono trasferiti automaticamente al learning management system e quindi permettono la valutazione da parte del docente. Ma anche per il docente, quindi si parla di utilizzo per il docente, la possibilità di avere un'analitica di dettaglio su il video stesso, quindi capire nel tempo, ed è questo grafico, quante visualizzazioni ci sono state, la barra blu, quanti utenti hanno visto quel video nello specifico periodo di tempo e quindi capire se gli studenti stanno usando quel contenuto, se lo stanno, se si stanno preparando ad esempio all'esame, ok? Ma anche per ogni video capire, avere delle statistiche e quindi capire il tracciato blu sulla media di visualizzazioni dove gli studenti si soffermano maggiormente a vedere il video, che può essere il punto in cui ci sono dei quiz oppure possono essere argomenti di particolare criticità. Così come il docente può capire, analizzando questo tracciato, se ci sono degli argomenti che lui riteneva importanti e nota che magari gli studenti non si sono soffermati, può capire come migliorare la realizzazione del proprio contenuto. Le barre che si vedono qui sono indicatori di commenti note messe dagli studenti sul video, quindi può anche capire l'attività di comprensione studio personale che fa lo studente. Parlando del docente, il docente può anche modificare i video. Panopto permette di integrare più tracciati stream video e l'editing è sicuro, nel senso che non si va a modificare il tracciato originale, si possono selezionare, tagliare, accorciare, accelerare alcune parti del video, così come è possibile inserire contenuti tipo link, i quiz che dicevo prima, video YouTube, ma anche dei sondaggi, per permettere ad esempio alla fine del video di chiedere alle persone di rispondere ad una survey, ad un sondaggio, sulla qualità del tipo di contenuto a nostra disposizione. Così come è possibile anche caricare e modificare le slide, perché Panopto sincronizza le slide e quindi è possibile mantenere aggiornato nel tempo modificando le slide in caso si abbia la necessità di fare una revisione del contenuto scritto in una seconda fase. E quindi è una tecnologia sicura perché permette al singolo docente e agli studenti di avere un proprio archivio dei contenuti e di organizzare una playlist. Veniamo a quindi le fasi di utilizzo, come poter inserire contenuti in Panopto. Innanzitutto sono contenuti di tipo multimediale, quindi video ma anche audio, e permettono ai docenti di creare ad esempio delle playlists o dei percorsi di formazione basati su podcast, per fare un esempio. I video possono essere caricati come singoli file, ma anche a gruppi di file, oppure si possono creare degli automatismi tramite delle API sicure. E quindi è pensabile che della quantità di video registrati in questa fase di risposta d'emergenza, caricare in automatico i video all'interno di Panopto. Panopto li elabora, genere in automatico le trascrizioni, i sottotitoli e li rende accessibili. Permette la riproduzione su qualunque dispositivo, quindi a prescindere dal formato del video, Panopto ha un sistema di encoding e di decoder dei video, e quindi permette l'utilizzo da qualunque dispositivo, anche app mobile. Di fatto Panopto ha anche un suo play registratore, quindi uno strumento per la registrazione, molto utile ad esempio per permettere al docente di creare delle sessioni live. Questo è un esempio del player, dove il docente può anche dal learning management system organizzare la registrazione, la sessione, viene generato un link. Se spunta l'opzione in alto, dice che la registrazione è un evento webinar, quindi live, e quindi può a questo punto definire gli input e caricare le slide che poi possono essere rese disponibili anche per eventi di classe flipped. Piuttosto che, e siamo qua negli esempi di utilizzo, classe flipped, webinar, piuttosto che utilizzo da parte degli studenti per presentare delle verifiche personali. Magari possono essere studenti a distanza che non possono raggiungere gli istituti nella fase di riapertura, e quindi possono registrare e distribuire tramite il learning management system, e quindi sono video sicuri, che soltanto il docente può vedere e può valutare, usando gli strumenti di valutazione del learning management system. Piuttosto che, casi di utilizzo sono quelli degli MBA, quindi in cui si chiede di presentare delle relazioni, piuttosto che dei corsi di lingue, quindi corsi di lingue inglese per studenti italiani, piuttosto che corsi di lingue in italiano per studenti stranieri. E qua arrivo ad un altro aspetto di Panotto, l'uso per la creazione di lezioni e tutorial sulle strumenti dell'università, come ad esempio in questo caso la presentazione di una stampante 3D, piuttosto che la possibilità di presentare, in questo caso è la presentazione di una struttura ospedaliera, dove si hanno quattro feed indipendenti, uno è le slide, uno è il docente, e due feed, uno sul macchinario e uno sulla sala e sull'ambiente. Su questo ultimo aspetto, sottolineo il fatto che non è necessario lavorare dalla stessa rete, ma è possibile lavorare da reti differenti, e quindi i docenti possono creare un video o una sessione di streaming, anche se sono in una rete che non è la rete dell'università. Ultimo esempio di utilizzo, l'utilizzo di Panotto come player video incorporati in siti, portali, che può anche essere l'intranet dell'università, o piattaforme MOOC. Quindi i video della library di Panotto possono essere importati ed essere utilizzati con le caratteristiche viste prima, ricercabilità dei contenuti e statistica di utilizzo da parte delle persone. Adesso nei prossimi qualche minuto, un paio di minuti giusto per fare un'introduzione alla media library. Questo che sto mostrando è l'esempio della media library di Panotto, in cui sono presenti alcuni documenti, io volevo mostrare alcuni casi di utilizzo, questo è il caso che si sta caricando di un video di una lezione Flipped, in cui si può notare che il docente si sta registrando dal suo PC, ed è nella sua abitazione, e... Non si vede Alessandro? Non si riesce a vederla? No. Allora, torno a condividere. Vediamo ancora... Forse ci voleva un pochino. Non so se adesso si riesce a vedere. Ci vuole un attimo di tempo. Adesso sì. Perfetto, benissimo. Allora, dicevo che questo è il video creato da un docente, metto un attimo in pausa, come si può notare nella propria abitazione, da un portatile, quindi si registra, e... in realtà sta registrando anche tramite l'app Panopto per smartphone, e quindi quello che vedete nella mia sinistra è la registrazione del suo setup di laboratorio, in questo caso un microscopio. Questo che state vedendo voi adesso è il player Panopto, quindi il player che può essere utilizzato direttamente via web, come notate, piuttosto che tramite l'app Panopto. Caratteristica, come dicevo, è la possibilità per lo studente, in qualunque momento, di cambiare la modalità di visualizzazione, allargare a discrezione sui contenuti, sulle tracce video che gli interessano. Il docente ha creato una descrizione di quello che è il contenuto, ha creato una agenda, si può navigare, quindi è sincronizzata, è temporizzata con i video, e la persona, lo studente ha a disposizione di tutti i sottotitoli creati in automatico da Panopto. così come è possibile velocizzare per un ripasso, da parte dello studente, dalla lezione fatta, e saltare di argomento in argomento. Mostro un altro esempio, in questo caso, di un setup di laboratorio. Ancora un video, in questo caso, nuovamente il player, in questo caso, si utilizzano più feed video. Una telecamera che riprende il setup sperimentale, che è visualizzato, in questo caso, sulla destra. Una telecamera che riprende l'assistente, il docente. Ambiente di laboratorio, in totale sicurezza, viene presentata la tecnologia, lo strumento dell'università, e, come si vede adesso, c'è una terzo stream video, che è quella della ripresa fatta direttamente dal setup di laboratorio della persona. In questo caso, il video è stato poi arricchito da un quiz, che serve per verificare la competenza acquisita dalla persona. Nel mio caso, io avevo già risposto, do la risposta, sottopongo, ed ho completato l'attività. Passo ora a mostrare la caratteristica che descrivevo prima di Panopto come strumento. Questa è la Media Library, per poter fare una ricerca, per parole chiave. Questi sono contenuti in italiano. Nel caso specifico, viene inserita la parola Università. Appena fatta la ricerca, Panopto mette in evidenza i video che contengono la parola Università nel titolo, ma anche quelle che sono le parole riscontrate all'interno del titolo. E se andiamo poi al contenuto, noterete che mette in evidenza all'interno del video tutte le parole ricercate, e ci sono dei simboli differenti. Questo simbolo che notate è il simbolo che identifica la parola Università riconosciuta all'interno di immagini o parole scritte, invece l'altra sul video. Questo è un video gentilmente acquisito dall'Università di Verona e il sottotitolaggio è in automatico fatto in italiano. Ultima caratteristica che voglio mostrare è quella di come poter dei video caricati nel player Panopto, quindi, anzi chiedo scusa, mostrare un'altra caratteristica, che è quella del supporto per gli strumenti di videoregistrazione come Zoom e Microsoft Teams. Con Panopto si integra Zoom e Team con Panopto. Quello che è possibile è qualunque registrazione fatta viene in automatico caricata all'interno di Panopto della Media Library, quindi è ricercabile, è ricercabile per contenuti. Questo è un esempio di un video realizzato con Teams. Panopto isola le tracce della registrazione della videocamera e di quanto condiviso a monitor e quindi permette allo studente tramite il player Panopto di decidere quale visualizzazione fare del contenuto video. E come dicevo, i contenuti sono ricercabili. Stessa caratteristica per Zoom. Qualunque registrazione fatta con Zoom viene recuperata da Cloud Zoom, messa disponibile nel media player nel visualizzatore di Panopto e quindi può essere ricercato. Ultima aspetto, come da dei video realizzati nella propria playlist, incorporarli in pagine web o piattaforme MOOC. Una volta che il video è stato registrato, si sceglie l'opzione Share. Faccio notare come il video è sicuro, nel senso che si può specificare chi può vedere il video, ad esempio soltanto le persone che hanno la possibilità di autenticarsi, quindi integrazione con il single sign-on dell'università. Si può decidere da quale momento far partire il video, se abilitare alcuni contenuti diciamo così multimediali del video. una volta fatte queste selezioni, quello che si fa è copiare il link che viene generato da Panopto. Questo link incorpora un player HTML5 all'interno di qualunque pagina web. Ed ecco qui l'esempio. Viene incorporato il codice e quindi il video ora è disponibile per l'utilizzo su pagine web, portali MOOC, intranet. Così come è possibile esportare il video con i contenuti e quindi avere le stesse funzionalità di Panopto, quelle viste assieme di sottotitolo, ma anche la possibilità di aggiungere delle note, aggiungere dei commenti personali o fare una ricerca per parole chiave all'interno del video. Ecco io interrompo qua la presentazione di quelli che sono alcuni casi di utilizzo di Panopto e torno a dare la parola a Lerona a questo punto se capisco bene per poter riportare la loro esperienza. Grazie Alessandro. Non ho visto domande, però se qualcuno avesse qualche domanda rispetto alla presentazione è possibile farle in chat oppure aprire il microfono e darei appunto la parola nel frattempo alla Verona. Non so chi vuole prendere la parola. Sì, grazie. Inizio io. Sì. Sì, ribongiorno a tutti. Ringrazio anche Alessandro e Debra. È stata un'esperienza bella anche per noi che già da tanto tempo chiusiamo Panopto vedere tutti questi effetti speciali. Adesso proseguiamo la nostra agenda in questo modo. Farò io una piccola presentazione per dare l'inquadratura di come abbiamo utilizzato Panopto e che cos'è l'Università di Verona, come abbiamo costruito il nostro sistema e poi lascio la parola a Pierpaolo e a Olga che faranno delle sessioni pratiche per far vedere appunto in termini pratici come abbiamo integrato e come abbiamo utilizzato questo strumento, questa tecnologia. Quindi io rubo semplicemente 5 minuti per dare l'inquadratura iniziale. Poi alla fine, se ci sono domande, ovviamente apriremo la sessione di domande e risposte. O anche durante il corso, non c'è nessun problema, interrompettici pure. Sì, ho visto, scusami Silvano, sono Jurgian. Ho visto che ci sono delle domande in chat. Non so se sono, diciamo, per voi o per Panopto. Non so se vogliamo rispondere subito o anche dopo. Dice, le piattaforme, Luca Treves, che saluto, vale da Osta, chiede, le piattaforme con cui si integrano i video sono Zoom, quali altre? Tutte supportano la separazione delle tracce video e audio, Teams in particolare. Quindi chiede questo. E poi, un attimo, Laura Biaggiotti, è possibile l'integrazione con Brightspace, i learning system? Queste sono le due domande. Non so se qualcuno vuole rispondere. Sì, credo, Alessandro. Sì, prendo nota e posso dare le risposte magari a conclusione. Però sto seguendo anche io la chat, prendo nota e darò le risposte senza problemi. Perfetto, allora puoi andare avanti Silvano, grazie. Grazie. Ora condivido. Vedete le mie slide tutti? Si vedono? Sì, si vedono, perfettamente. Perfetto. Allora, tre slide semplicemente per inquadrare le nostre cifre del nostro Ateneo. Noi abbiamo circa 60 corsi in offerta formativa, abbiamo circa 24.000 studenti e quasi 800 docenti di prima fascia, seconda, quindi ordinari e associati. Questa è un po' la nostra storia nel nostro Ateneo. Siamo partiti molto tempo fa con i nostri primi strumenti. Questi sono i nomi in codici dei nostri progetti, ma sotto vuol dire che ci stava comunque il motore Moodle e-learning e quindi la didattica un po' a supporto di quella che era la didattica in aula, cioè la didattica blended, fino ad arrivare al 2019 quando abbiamo costruito, progettato e costruito un ecosistema integrato che poi è risultato essere estremamente prezioso proprio in questo periodo. Vado un po' più in là rispetto a quello che ha detto Alessandro, cioè non è un sistema panopto per noi che ha funzionato e sta funzionando solo per la didattica, per registrare le lezioni e per fare innovazione didattica, ma noi ci stiamo accorgendo che è diventato veramente in questo periodo un punto chiave generale, quindi general per il plus, cioè stiamo utilizzando per moltissime altre attività, gli uffici anche amministrativi di nostri colleghi che devono fare gare, appalti, concorsi, piuttosto che orientamento, quindi verso gli studenti, le famose giornate di orientamento dove venivano accolti gli studenti, piuttosto che la formazione, i public engagement, quindi ci sono tantissimi colleghi di vari uffici e di vari domini che ci stanno chiedendo e li stiamo coinvolgendo nell'uso di panopto. E' un ecosistema integrato, cioè il punto di forza di tutto questo che noi abbiamo costruito a Verona è stata l'integrazione e panopto forse probabilmente da questo punto di vista è la colonna portante, nel senso che anche zoom è integrato con panopto, quindi anche quando utilizzano zoom e fanno una lezione, ad esempio registrando, poi comunque viene resa disponibile su panopto. Vuclap comunque è integrato all'interno di questo sistema e che poi ha il suo cuore epicentro all'interno di Moodle. Quindi sostanzialmente, poi lascio la parola, noi abbiamo costruito all'interno della nostra internet tutta una serie di funzioni che permettono in modo semplice e facile al docente di crearsi il proprio corso su Moodle, di attivare tutte le funzioni su Moodle per gestire il blocco di panopto, cioè tutta la parte di registrazione e quindi panopto poi è diventato il centro e il fulcro di questa attività del docente in maniera assolutamente semplice. Cioè il nostro sistema che abbiamo progettato, l'idea di base, era quella di far sì che ci fosse un gradino più basso possibile per il docente, un gradino tecnologico, il gap tecnologico per utilizzare questi strumenti fosse più basso e semplice possibile, quindi strumenti molto facili da usare, semplici, potenti, con tante funzionalità, ma comunque che avessero un'attenzione estrema sulla facilità d'uso. E poi appunto l'integrazione, in modo tale che tutto fosse connesso e all'interno di uno stesso sistema. Cioè il docente non deve fare qualcosa su uno strumento esterno, salvarlo sul disco fisso, portarlo dentro, trascinarlo, inglobarlo in qualche modo tra uno strumento e l'altro, perché è tutto all'interno del nostro ecosistema. Questo è stato il punto di forza che poi si è rivelato fondamentale in questo periodo di emergenza, perché siamo riusciti a partire molto velocemente, ovviamente uno sforzo dietro c'è stato, perché comunque non tutti i docenti lo utilizzavano, anzi la maggior parte dei docenti non utilizzavano ancora questa modalità, era un approccio di innovazione didattica che noi stavamo spingendo assieme alla governance, quindi era comunque nel piano strategico del nostro Ateneo cominciare a spingere verso quelle che Alessandro ha mostrato poi nel grafico di Panopto, cioè verso anche il flip the learning, verso il video tutorial, verso l'engagement più stretto con lo studente. Quindi questo comunque è quel bagaglio che noi ci aspettiamo, e concludo, che ci lascerà questo strumento, questa esperienza alla fine di questo periodo di emergenza. Quindi questo è un passaggio che è stato critico allo stesso momento, allo stesso tempo, ma anche una grossa opportunità, e noi aspettiamo di cominciare a costruire poi qualcosa di robusto per il futuro una volta che è finita l'emergenza. Detto questo lascio la parola ad Olga e a Pierpaolo, che vi faranno vedere un po' di casi d'uso, e ci risentiamo dopo per eventuali interventi. Silvano, Jürgen, giusto per farvi complimenti, perché siete stati lungimiranti e avete avuto un pizzico di fortuna, nel senso che avevate un progetto pronto, e quindi l'emergenza non vi ha colto alla sprovvista, ma vi ha dato in qualche modo la possibilità di andare subito a regime. Insomma, complimenti perché non tutte le università erano in questa condizione, quindi molte altre anche avevano già in piedi un progetto, e quindi hanno avuto, come dici tu, una spinta nell'utilizzo, e altre invece non per dire zero. Quindi insomma, complimenti per il progetto. Grazie, grazie. Pierpaolo, Olga, prego, a voi la parola. Ok, Silvano, si esco? Sì, sì, esco. Benissimo. Ok. Dunque. Intanto, una breve introduzione. Perché? Perché l'Università di Verona ha scelto Panopto? Ovviamente, prima della decisione finale è stata fatta un po' un'indagine dei prodotti che sono sul mercato, e Panopto ci ha convinto per motivi che adesso vi spiego brevemente. La facilità d'uso. Per noi era un punto imprescindibile. Tutti sappiamo come l'adozione di nuove tecnologie possa essere un tema di difficoltà per chi deve appunto iniziare a registrare. E quindi la facilità di utilizzo del client Panopto ci era sembrata veramente un punto di forza. E vi farò vedere poi, in sostanza, questo è il client sulla mia versione per Mac, e vi farò vedere poi l'integrazione con Moodle, ma direttamente da questa pagina il docente può decidere già di registrare all'interno di Moodle. Quindi questo facilita molto il workload del lavoro del docente. Non deve prendere la registrazione e spostarla, come diceva Silvano, da una parte all'altra, ma può appunto anche optare per una pubblicazione automatica della sua registrazione o del suo live streaming direttamente all'interno di Moodle. Quindi questa è una cosa che ci è piaciuta molto. Appunto, poi il secondo punto imprescindibile è che Panopto si integra profondamente con Moodle, che è appunto la piattaforma che l'Atena di Verona ha scelto ormai da molti anni. Successivamente, ovviamente, abbiamo tutti i vari punti che riguardano questa esperienza, un supporto puntuale. Abbiamo scoperto in Panopto un aiuto molto forte, sono sempre precisi, e soprattutto anche accettano le features request che di tanto in tanto mandiamo. Poi, come diceva poco fa il dottor Plantamura, comunque anche sono molto sensibili ai temi dell'accessibilità, e quindi è il motivo per cui abbiamo adottato Panopto. Le funzionalità, o meglio, le integrazioni che noi abbiamo messo in atto. Adesso qui vi faccio vedere direttamente il nostro sito. Abbiamo integrazione con il single sign-on, il sistema di autenticazione di Ateneo, e ovviamente con la piattaforma e-learning Moodle. Queste voci si impostano dalla voce qui identity providers, all'interno del quale, veramente in modo molto semplice, anche grazie a tutta una guida online che è il supporto di Panopto pubblica, è stato possibile veramente in pochissimi passi aggiungere l'integrazione con Moodle, sia con Moodle che con il sistema di autenticazione di Ateneo. Questo passaggio è stato necessario in quanto, essendo Moodle un identity provider, generava utenze nel media library di Panopto con Moodle come identity provider. Ma avevamo necessità anche di fare in modo che potessero accedere alla media library anche persone che non necessariamente transitano da Moodle e quindi non vengono provisionate dal learning management system. Quindi abbiamo aggiunto anche l'accesso con le credenziali di Ateneo. Con un piccolo poi aiuto del supporto abbiamo fatto in modo che le due utenze venissero unificate e potessero essere identificate come una unica persona, un unico utente. L'atto Moodle, volevo farvi vedere brevemente come funziona. Panopto su Moodle si può identificare in due modi. in un blocco. I blocchi possono essere aggiunti dal docente. Nel nostro caso, durante l'emergenza Covid, abbiamo fatto in modo che fossero immediatamente invece presenti sul home page del corso e-learning proprio per evitare il più possibile il numero di clic che l'atto docente. Nel momento in cui viene attivato il blocco, e questo che è molto importante, secondo me, dell'integrazione tra Panopto e Moodle, gli utenti del corso Moodle vengono provisionati all'interno della media library Panopto ereditandone i diritti, ovvero il docente del corso Moodle acquisisce il ruolo di creatore di video su Panopto, mentre lo studente acquisisce il diritto di viewer. Molto importante è il fatto che questi video pubblicati dal docente in merito a questo relativo corso saranno visibili solamente agli studenti di questo corso. quindi se anche il link del video venisse condiviso ad altri, questi altri non potranno vedere in quanto non sono iscritti al corso Moodle online. Il blocco, inoltre, secondo noi offre il vantaggio di non andare ovviamente ad appesantire la piattaforma Moodle dovendo caricare i video qua dentro, ma è un rimando ai video che sono pubblicati online sul cloud, sulla media library. Una seconda cosa, come abbiamo integrato Panopto su Moodle, è con un pulsante atto. Il pulsante, il pulsante di Moodle, consente di accedere alla media library e inserire direttamente un video nella parte incorporata della pagina Moodle. A differenza del blocco, questo volendo consente di abilitare il tracciamento del completamento per l'attività su Moodle, ovvero io posso decidere di rendere il video visibile solo dopo aver compiuto una determinata attività su Moodle. Quindi questa è la grossa differenza tra il blocco e il pulsante. Tornando invece sulla media library, come diceva prima Alessandro, è possibile anche pensare ai webcast. In questo caso, da questo bottone che vedete, è possibile preparare un webcast, supponiamo di un evento futuro, per il quale i partecipanti debbano già essere in possesso del link. In questo modo il webcast viene preparato e nel momento del giorno dello streaming basterà semplicemente, da questo pulsantino che adesso vedete disabilitato, Join Session, selezionare il webcast che abbiamo preparato. Primary record, il filmato va in diretta live. Altra cosa molto interessante sono i sistemi dei lecture capture di Aula. Noi abbiamo utilizzato, una delle funzionalità di Panopto che è Remote Recorders. Cos'è Remote Recorders? Si tratta di un'installazione di Panopto che lavora in background sul PC, quindi consente al client di acquisizione audio-video Panopto di essere comandabile da remoto. molto interessante sono anche le integrazioni con gli hardware di terze parti. In questo caso vedete delle aule in diretta dal Polo Santa Marta dell'Università di Verona che sono state allestite con un prodotto molto bello della Epifan Pearl Mini che una volta configurato grazie all'integrazione che offre con Panopto entra in questa finestra Remote Recorders e consente di fare tante cose molto interessanti come abbiamo ad esempio fatto in occasione di un evento di dicembre quando l'Università di Verona ha organizzato il Moodle Moodle Italia. permette di programmare le registrazioni ovvero io in questa determinata aula posso decidere che un determinato evento vada a pubblicarsi su una cartella che attenzione può essere anche una cartella Moodle quindi io a priori posso già decidere una registrazione che va a pubblicarsi in Moodle o registrato o live. Scelgo giorno, data, ora se è un evento ricorrente, se è uno streaming e la qualità. quindi anche questa è un'integrazione che è molto interessante l'evento di cui vi parlavo di dicembre il Moodle Moodle Italia aveva cinque aule e tutte le sessioni partivano e si stoppavano nel registrato in modo del tutto automatico cioè totalmente inattendito non c'è stato bisogno di personale dedicato nelle aule che avviasse e terminasse le registrazioni. Un'altra cosa che volevo farvi vedere che stiamo adesso abbozzando con il public engagement dell'Università di Verona è l'utilizzo dei department cosa sono i department? Sono dei sottositi rispetto all'istanza generale di Panopto che possono essere brandizzati a piacimento in modo diverso questi department possono avere degli amministratori locali che vivono solo su queste pagine e possono vivere appunto di vita propria è molto interessante noi lo stiamo adesso implementando per appunto il public engagement dell'Università di Verona per fare in modo di avere un'istanza conopto sostanzialmente con la loro grafica con i loghi delle varie iniziative che propongono e incorporando queste pagine come faceva vedere prima Alessandro all'interno ad esempio di altre pagine web è possibile fare in modo che tutti gli eventi che vengono creati dal public engagement siano appunto visibili in un unico contesto e con grafica separata. A tal proposito un'altra delle funzionalità che accennava prima che accennavano prima Silvano e Alessandro è l'integrazione con Zoom vorrei spendere solo due parole veloci per dire appunto che è stato molto importante per noi in questa fase consentire anche ai docenti di scegliere anche un sistema di videoconferenza per recuperare le proprie lezioni quelli che avevano più necessità di interagire con lo studente avevano necessità appunto di un sistema di videoconferenza. In tutto questo Zoom offre un'integrazione davvero molto forte un'integrazione che consente alle registrazioni cloud come diceva Silvano di essere trasferite in automatico all'interno di Panopto di default all'interno di un proprio spazio personale del media library chiamato My Folder ma questo è ancora molto interessante ogni utente può scegliere dai propri settaggi personali una default import folder quindi supponendo che io debba fare la videoconferenza della lezione di basi di dati io posso andare qui a scegliere basi di dati in questo modo la registrazione effettuata con Zoom al termine della lezione viene trasferita da Zoom a Panopto e si pubblica in automatico nella Moodle folder di basi di dati tutto questo avviene senza nessun tipo di click dal lato del docente salvo averlo impostato a priori abbiamo visto poi appunto la parte relativa al player nel senso che i video che vengono trasferiti da Zoom a Panopto hanno una resa grafica poi come se fossero in realtà nativi di Panopto e questo aiuta molto perché permette di guadagnare tantissime features lato studente come la smart search all'interno del video la sottotitolazione la possibilità di modificare i titoli perché Panopto offre anche la possibilità di un editing online un editing che consente appunto di effettuare dei tagli aggiungere clip aggiungere quiz e tante altre cose per concludere volevo farvi vedere scusa Pier mi introduco solo per aggiungere una cosa cioè questo per noi è stato molto importante per i nostri docenti avere poi alla fine un unico sistema di gestione con Zoom e Panopto integrati perché abbiamo circa il 15-20% dei nostri docenti che hanno utilizzato come modalità di recupero di erogazione delle lezioni non si parla più di recupero di lezioni di didattica a distanza di farle con Zoom quindi con Zoom quindi in diretta live facendole con Zoom hanno comunque utilizzato tutto il flusso la gestione poi a valle con Panopto per riportare tutte queste lezioni registrate all'interno di Moodle per gli studenti che poi magari non potevano frequentare quindi il caso d'uso e l'utilizzo dello strumento da parte del docente è stato davvero semplice e abbastanza comune cioè a volte registravano con Panopto a volte facevano una diretta ma si trovavano comunque all'interno dello stesso contesto poi di gestione del video e questo gli ha veramente facilitato la vita è stato veramente un punto che i docenti hanno apprezzato molto ok prego Pia grazie in conclusione volevo solo farvi vedere l'esperienza come vi ho già fatto vedere velocemente Alessandro lato studente in qualunque momento nel video vedete in questo caso abbiamo una lista sulla una colonna qui a sinistra questa colonna si popola in automatico quando il docente registra selezionando questa voce record powerpoint cosa fa record powerpoint consente al sistema Panopto di ricordare quando il docente cambia slide e quindi in qualunque momento li posso premere e portarmi in un momento particolare del video voi immaginate una lezione di un'ora e mezza in cui devo guardare un punto che non mi ricordo più una parola o un concetto che è stato espresso in un momento in cui non ricordo di preciso avere la possibilità di vedere le slide e puntare direttamente in quel momento della registrazione può aiutare tantissimo gli studenti e in ogni momento lo studente sia in live che sul registrato può aggiungere dei commenti può prendere delle note personali che vengono tra l'altro sincronizzate nel secondo esatto quindi se prendo una nota al minuto 56 41 la mia nota quando voglio andare a rivederla sarà sincronizzata esattamente in quel secondo la stessa cosa vale per il segnalibro posso aggiungere dei segnalibro che vengono poi mostrati direttamente nel mio profilo sulla home page di Panopto la ricerca indicizzata ne ha già parlato prima Alessandro quindi posso andare a cercare delle parole chiave all'interno dei video i quali vengono mostrati poi in successione e un'altra cosa un caso che abbiamo d'utilizzo qui all'Università di Verona è l'assignment folder cos'è questo assignment folder consente a un docente di scegliere un proprio insegnamento perché ecco una cosa importante quando viene generato il blocco Panopto su Moodle questo blocco di fatto va a creare una folder sulla media library Panopto dove all'interno vengono caricati i video per questa folder che viene sincronizzata poi su Panopto il docente può scegliere di fare una assignment folder cos'è appunto l'assignment folder questo assignment folder consente agli studenti di quel determinato corso che ha deciso il docente di diventare creatori di video quindi possono scaricare il client di acquisizione Panopto e produrre loro dei video noi l'abbiamo utilizzato in alcuni casi in alcuni insegnamenti dove i docenti propongono attività di gruppo dove solitamente queste attività di gruppo venivano svolte in aula quindi a gruppi si alternavano e presentavano i loro progetti in questo caso invece l'abbiamo fatto con l'assignment folder di Panopto gli studenti si possono incontrare anche in zoom videoconference registrano e questa registrazione finisce nell'assignment folder video e quindi c'è la possibilità appunto di valutare poi anche gli elaborati i progetti degli studenti tramite appunto questa funzionalità molto interessante assignment folder bene con questo io avrei concluso se qualcuno vuole aggiungere qualcosa sì non so se ci sono domande o se qualcuno vuole aggiungere qualcosa credo che Alessandro abbia già risposto via chat ad alcune domande volevo ricordare solo una cosa ai colleghi appunto legata all un'ultima slide che volevamo presentare per mostrarvi un po' di numeri su quello che è successo diciamo così su quello che era pre-emergenza e quello che è successo poi diciamo post emergenza ecco sul nostro sul nostro sistema panopto sì prego sì faccio io mi condivido ancora un secondo il mio powerpoint noi abbiamo fatto il conto che c'erano circa 1260 attività in questo secondo semestre nel nostro Ateneo per cui la risposta che hanno fatto i docenti hanno avuto i docenti da questo punto di vista utilizzando gli strumenti è stata circa dell'85% quindi quasi tutti i docenti hanno utilizzato gli strumenti abbiamo creato un gruppo di supporto che li ha aiutati veramente in maniera importante però è stata solo e semplicemente lo start up perché era sempre ovviamente difficile far fare il saltino tecnologico anche se era come dicevo prima un gap abbastanza semplice e basso però abbiamo ottenuto dei risultati importanti noi abbiamo anche la scuola di medicina quindi quel 15% ci sono dentro una buona percentuale di medici che hanno avuto degli altri impegni come vi lascio immaginare in questo periodo abbiamo registrato però ad oggi più di 16.000 video di lezioni all'interno del nostro sistema e non ho mai avuto problemi di prestazioni problemi di altra natura sulla piattaforma quindi anche questo è stato per noi un'esperienza molto significativa e importante perché mai i nostri sistemi erano stati messi così sotto stress quindi a parte qualche piccola taratura iniziale come immagino sia successo in tutti gli atenei poi tutto il sistema ha retto bene quindi anche qui ci sono state di buoni risultati sulla piattaforma di Panopto ricordatevi che tutti i video sono all'interno del cloud di Panopto quindi lo studente che guarda la lezione poi registrata non va a mai insistere sulla nostra infrastruttura a reti di Ateneo quindi non passa mai dal nostro Moodle c'è semplicemente il link su Moodle quindi il flusso dati è sempre tra casa dello studente e cloud system all'interno di Panopto credo ci fosse Giovanni Bianco che voleva intervenire prego sì buongiorno intervengo solo per le questioni relative alla privacy che sono poi le più delicate in questo periodo per tutti immagino c'era una domanda sulla chat devo dire che per quanto riguarda la privacy abbiamo nominato responsabile del trattamento Panopto nel giugno del 2018 attraverso anche un'interazione con il sistema e con il nostro ufficio privacy quindi c'è stata una convergenza su quello che erano quello che è il contenuto della nomina pertanto non ritengo ci siano problemi da quel punto di vista lì visto che la nomina responsabile dà tutta una serie di obblighi e quindi cautela anche il titolare che siamo noi per quanto riguarda invece le registrazioni che coinvolgono gli studenti stiamo parlando di registrazioni che in questa circostanza coinvolgono il docente quelle che coinvolgono gli studenti eventuali hanno un'informativa però se non sbaglio da questo punto di vista Panopto in questa circostanza ha a che fare con una registrazione della lezione dove c'è un docente che parla con documentazione a corredo e altre situazioni in ogni caso le abbiamo gestite con opportune informative grazie Giovanni scusate posso intervenire sono Federico Mari che ha fatto la domanda sì prego tanto grazie per la risposta molto esaustiva io sono delegato del rettore per l'innovazione tecnologica al foro italico l'università di Roma dello sport e lì abbiamo questo problema adesso per le registrazioni e io mi sono rifatto al webinar scorso organizzato da Cruy dove le università hanno portato le loro esperienze per la teledidattica e lì era emerso che questo tipo di informative che si danno agli studenti o ai docenti potrebbero essere in qualche modo legalmente un po' scivolose perché vedono un rapporto di suggestione tra lo studente e i docenti o tra il docente e l'università e per questo io ho fatto questo tipo di domanda perché siccome non è chiara questa legislazione alla fine il nostro lettore ha deciso di imporre la non registrazione delle lezioni a distanza per essere per stare sicuro e niente volevo soltanto chiedere se è troppo se è esagerato quello che stiamo facendo oppure non lo so una considerazione a riguardo grazie scusate posso rispondere sempre io a questo proposito concordo con il contenuto di questa riflessione le registrazioni anche il DPO che ha parlato nel venerdì scorso al CODAU vi ricorderete che ha detto che è l'ultima delle cose possibili a immaginarsi una registrazione qualora non vi siano altre modalità perché c'è sempre da considerare la minimizzazione del set di dati da prendere in considerazione appunto per quel processo quindi è assolutamente necessario registrare se sì allora a quel punto bisogna per forza fare l'informativa l'ho messa come eventuale questa questione prima perché da quel che è possibile posso dire che con il conforto di Silvana Olga e Pierpaolo credo che se non la totalità praticamente la quasi totalità delle lezioni sia con il docente che guarda una slide che la trasmette quindi non sono presenti da questo punto di vista qua studenti nella lezione negli altri casi siamo stati abbastanza chiari con i docenti ci fossero problematiche legate a registrazioni con studenti non informati bisogna rifarsi immediatamente all'ufficio privacy che può dare tutte le modalità di trattamento del dato quindi il consiglio che posso dire è questo le lezioni si possono fare senza trasmettere senza che sia la platea degli studenti sfortunatamente perché basta vedere il docente con le proprie slide qualora fosse necessario e la parola necessaria necessario è vincolante allora a quel punto il nostro consiglio che abbiamo capito anche a seguito di tutti questi incontri è quello di veramente blindare il trattamento sentendo la privacy però deve essere assolutamente residuale il ricorso alla registrazione e se non del tutto nullo si chiede la parola Rosa San Rocco del gruppo di lavoro della Curi prego Rosa buongiorno a tutti ho seguito insomma molto interessante a proposito della privacy visto che io sono un DPO quindi ogni giorno ho a che fare con problemi di protezione dei dati personali e sta arrivando di tutto di più quindi sono molto solidale con quelli che stanno gestendo tutta una serie di problematiche che riguardano la privacy allora volevo dire che per quanto riguarda la registrazione delle lezioni voglio dire non stiamo facendo niente di più di quello che si può fare con un normale e-learning quindi chi magari già utilizzava Moodle per registrare delle lezioni piuttosto che sicuramente aveva già a corredo tutta una serie di informative piuttosto che diciamo richieste di piuttosto che gestione appunto degli account degli studenti che si collegano alle piattaforme quindi non c'è nulla di più piuttosto quello che diciamo è importante capire dove queste lezioni poi vanno a finire per esempio il collega diceva sul cloud di Panopto che loro giustamente hanno risolto con una nomina al responsabile esterno del trattamento per cui a Panopto sono state fornite anche le istruzioni su come trattare questi dati ora è diversa invece perché il collega che ha parlato prima magari confondeva il fatto della registrazione dell'esame quella è una problematicità più forte perché la registrazione dell'esame presuppone che io registri lo studente non il docente che fa lezione che tra l'altro voglio dire fa lezione per un compito istituzionale quindi diciamo ha delle garanzie diverse rispetto allo studente che invece segue la lezione quindi la registrazione invece dell'esame significa che io devo immagazzinare dei dati che non sono tenuta poi a tenere cioè quello dell'esame che sta lo studente che sta svolgendo l'esame quindi la sua immagine la sua voce quello che fa e tutto il resto per quello ho bisogno di garanzie aggiuntive e da quello si può riferire il fatto che magari lo studente è in uno stato di soggezione nei confronti del docente nel senso se il docente mi ha registrato poi si deve andare a guardare tutta la mia la registrazione dell'esame e lì io posso dire magari ho visto che hai fatto un movimento strano per cui non ti posso convalidare l'esame perché ti sei mosso mentre stavi facendo l'esame scritto è molto più complesso ma dal punto di vista della registrazione delle lezioni diciamo non vedrei una problematicità grossissima se appunto sono stati presi tutti gli accorgimenti giusti per riguardo appunto alla protezione dei dati e alla nomina responsabile esterno del trattamento che poi deve gestire e trattare comunque questi dati per conto del titolare spero sia chiaro questo perché poi la paura di fare cose che non siano giuridicamente corrette ci porta a volte ad essere anche eccessivamente restrittivi rispetto alle possibilità che invece la tecnologia ci dà per risolvere questa problematica abbastanza accogente grazie grazie Rosa non so se Giovanni voleva aggiungere qualcosa Giovanni Bianco mi sa che stiamo introducendo in un corridoio di privacy che non avrà fine perché vedo anche in un tunnel non corridoio in un tunnel non corridoio quando si dice esami e si parla di privacy si apre un fiume in piena poi usciamo dal web faccio vedere il documento che sto elaborando su Zoom tanto per intenderci che è una delle questioni qui presenti volevo fare una sintesi e magari se ritieni Jürgen non so se è necessario rifarsi anche un'altra sessione sulla privacy se è proprio necessario farlo perché altrimenti corriamo il rischio di uscire un po' da quelle che erano le tecnicalità di Panopto però posso dire questo rispondo per ultimo al discorso di Zoom fortunatamente Zoom sta correndo i ripari a seguito di tutta una serie di situazioni per quanto riguarda ad esempio il discorso dei server in Cina comunque come è stato scritto qui possiamo sicuramente dire che adesso Zoom ha il trattamento europeo dei dati e comunque da questo punto di vista diciamo qualche credo che questo già sistemi la faccenda ora sul pregresso non voglio neanche aprire la porta però in questo momento qui hanno risolto questo problema e lo stanno continuamente risolvendo però Zoom meriterebbe una sessione ad hoc credetemi perché ci sono state parecchie questioni legate a Zoom sulle lezioni io ho visto che Federico Mari ha ribadito il concetto su le lezioni che hanno un'interazione con gli studenti quindi ad esempio Zoom che interagisce con gli studenti e il docente e quindi poi con la lezione lì è registrata ecco questo è quello che forse a cui si riferiva lui visto che c'è anche una DPO che c'è anche una DPO vorrei anche capire come cercare di affrontare questa questione però ripeto forse stiamo affrontando una questione relativa alla privacy che esula la tecnicalità dello strumento e entra proprio nella problematica privacy to cure perché qui scusatemi non volevo aprire un vaso di Pandora io no questo purtroppo al di là di Panopto qualsiasi domanda che dica posso registrare i visi degli studenti durante la lezione se lo fa Panopto che lo faccia Zoom che lo faccia qualsiasi altra cosa è comunque una domanda di core quindi una domanda in astrato valida per tutti gli strumenti qui credo bisognerà approfondire molto la questione ribadisco solo questo trattamento dei dati sicuramente deve essere a norma quindi responsabilità di chi lo fa e quindi già questo risolve in parte se non tutta la problematica della corretta gestione e trattamento dei dati se ci sono visi di qualche viso di qualche studente perché ovviamente sarà fatto conformemente alla natura dei dati che c'è lì sopra la responsabilità è intesa in questo senso quindi a seconda del dato che ho agisco responsabilmente per trattarlo quindi se ci sono delle cose sensibili agisco per trattare queste cose sensibili l'altra questione è l'informativa data agli studenti ecco in questa circostanza qua abbiamo messo un'informativa che dice che potrebbero esserci le registrazioni da questo punto di vista però noi abbiamo praticamente quasi del tutto sconvolto permettetemi i docenti dicendo non registrate non fate in modo di registrare studenti usate altri sistemi per cui penserei che si sia andati verso quella strada lì però l'importante è avere quindi proprio allineati con il foro italico perfetto credo che ormai tutti stiamo allineandoci sì diciamo che no sono concordo concordo con Giovanni stiamo andando uscendo da tecnologità dell'incontro però chiaramente lo spirito è quello di servizio e di condividere il fatto di sapere il fatto che ci sia oggi Verona è lo spunto per capire quello che avete fatto e come avete affrontato le cose quindi insomma la domanda secondo me ci stava sebbene poi come dici tu potrebbero volerci non una ma più sessioni dedicate solo a questo quindi insomma non usciamo dal seminato tra l'altro se posso vorrei dire solo una cosa in materia che mi riaggancia un po' al core della riunione di oggi quando una cloud recording zoom viene trasferita su Panopto è possibile scegliere quali informazioni importare ad esempio posso escludere la gallery view quella che mi consente di vedere gli studenti quindi posso scegliere l'active speaker solo con lo schermo condiviso e questo potrebbe già togliere tantissime tantissimi volti di studenti che sono poi a schermo ecco solo questo volevo aggiungere credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali che può risolvere la questione di trattamento degli studenti perché non vedere il viso di uno studente è uno degli aspetti fondamentali credevo fosse stato già detto prima ma è meglio averlo detto adesso prego Rosa così chiudiamo l'argomento e poi andiamo avanti no volevo dire innanzitutto che per quanto possa sembrare all'atere la questione della protezione dei dati però è quella più importante perché credo che tecnicamente voglio dire i sistemi siano tutti ottimi di per sé poi il problema più grosso è proprio quello di stare all'interno di norme che purtroppo insomma sono un po' la spada di Damocle che pende sulla testa di tutti però ora per tornare ad essere proprio operativi mi interessava invece sapere se avete fatto una poi magari rimandiamo ad un'altra sessione perché è molto interessante se avete fatto una nomina al responsabile esterno tra virgolette del trattamento a panopto ma l'avete fatta voi oppure se vi siete adattati a un DPA che loro rendono disponibile avete fatto un addendum perché questo è fondamentale in quanto questi sistemi molto spesso offrono un DPA che è un data processing agreement a cui in genere si aderisce perché i servizi sono abbastanza standard tranne poi magari redigere un addendum con delle istruzioni aggiuntive che però potrebbero determinare un costo aggiuntivo rispetto a quello diciamo standard quindi per esempio questa cosa sarebbe molto interessante da capire perché è quella che più diciamo sta attanagliando i DPO delle università italiane Panopto si è dimostrata molto disponibile a cambiare il contenuto della nomina in alcune parti credo che questo sia la felicità di tutti i DPO e di chi ha anche nomine responsabili perché si rende conto che non sempre il protocollo standard diciamo si incastra perfettamente con le necessità dei titolari non abbiamo avuto non abbiamo scontrato problematiche di interazione credo che l'interazione che c'è stata tra il nostro ufficio privacy insieme con noi e Panopto sia stata molto soddisfacente da questo punto di vista non c'è stato un addendum ma proprio una variazione di contenuto non c'è stato attribuito alcun costo in più è ovvio che probabilmente abbiamo toccato degli argomenti che erano compatibili con le modifiche non posso pensare che tutto possa essere modificato in quel caso allora sì che probabilmente bisognerà entrare in una logica di trattativa per inserire del trattamento dati non previsto o aggiuntivo o comunque maggiormente impattante no devo dire che Panopto si è dimostrata fuori dal coro forse ma questo va a vantaggio di quell'azienda certo ottimo mi pare una cosa veramente grande in genere non si è molto disponibili se hanno fatto questo mi sembra un'ottima cosa mi piacerebbe guardarlo la vostra nomina responsabile sarebbe proprio interessante sì beh nel caso voglio dire può essere un risultato importante che si può mettere anche a disposizione delle altre università che eventualmente hanno necessità sia su Panopto che per altre situazioni grazie non so se vogliamo proseguire invece su aspetti tecnici se c'erano altre richieste adesso ho visto che in chat c'erano delle richieste se qualcuno vuole rispondere rispondo per quanto riguarda la domanda di Andrea Zante che dice ritorno su una questione di funzionamento Panopto le registrazioni Zoom e Teams in che modo possono essere collocate automaticamente nell'insegnamento in modo il corretto questo avviene l'ha spiegato prima il collega Pierpaolo attraverso l'impostazione della default import folder quindi a livello di singolo utente su Panopto è possibile cambiare le impostazioni e fare in modo che le registrazioni fatte con Zoom vadano direttamente a collocarsi ecco Pier che sta facendo vedere vadano direttamente a collocarsi all'interno di una cartella predefinita che è quella dell'insegnamento del docente e cioè la cartella di Moodle dello spazio Moodle appunto del del docente ovviamente ovviamente questa cosa funziona se il docente ha un singolo insegnamento ok se il docente è titolare come spesso accade di più insegnamenti ovviamente non ha molto senso impostare appunto questa folder di destinazione ma smistare i vari video Zoom a seconda delle lezioni a cui afferiscono in maniera appunto manuale ecco non so se ho risposto chiaramente alla domanda aggiungo solo un commento anch'io perché l'esperienza utente dei nostri docenti soprattutto all'inizio pur essendoci questo automatismo che poteva fare collocare la registrazione direttamente nell'insegnamento Moodle in fase di registrazione di Panopto hanno comunque proprio nella loro prima esperienza nei primi video preferito depositare il video sempre sulla loro folder personale che è quella non visibile poi a nessuno controllare poi il video eventualmente hanno imparato abbastanza in fretta a fare di piccoli tagli e poi con una semplice operazione in Panopto si fa veramente molto semplicemente spostano il video nella cartella nel folder dell'insegnamento corretto quindi quando fanno un move di quel video Panopto gli propone tutte le cartelle disponibili che sono le cartelle corrispondenti ai loro insegnamenti su Moodle scegliono la cartella corretta e il video viene spostato quindi come esperienza utente abbiamo visto che è molto importante ci sia questa integrazione ma il docente preferisce prima depositarsi il video andare a guardarselo magari con un attimo di calma visto che è stato registrato in diretta se hanno usato direttamente Panopto e poi di andare a spostarlo nella cartella corretta comunque si può che fare automatismo anche anche questa di spostare piuttosto che copiare è un'operazione davvero molto semplice quindi davvero richiede pochi secondi ecco vedevo una domanda per Silvano Pasquali quanti tecnici del settore IT sono impegnati nella progettazione e manutenzione del sistema MyMVR ha già risposto il dottor Bianco ho già risposto io o Pierpaolo ok chiedo scusa allora adesso vado a leggermele anch'io la risposta sono curioso ma no non contraddirmi no no per carità adesso la prendo subito anch'io se hai usato dei numeri che non sono reali poi domani mattina anzi no lunedì ci aggiorniamo sulle risorse no scherzo scusate se non ci sono ulteriori domande diciamo che siamo andati anche un po' in là con il tempo previsto ma insomma è sempre bene voglio dire consentire domande poi c'è stata la divagazione un po' sulla questione privacy ma insomma quando ci sono domande io sono sempre favorevole nel concedere un po' di tempo in più però se non ci sono lato vostro ulteriori approfondimenti o richieste da parte delle persone che stanno partecipando io mi avvierei alla conclusione non so da parte vostra sì non mi sembra che ci siano altre richieste allora io ringrazio Panotto per diciamo questa occasione di averci fatto questa overview ringrazio Inizia di Verona che ha portato la propria esperienza e il proprio esempio come sempre pubblicheremo sul nostro sito la registrazione di questo webinar eventualmente se da Verona mi potete anche Panotto insomma se mi potete fare avere magari la documentazione che avete presentato i vostri riferimenti semplicemente perché lo pubblichiamo con più di servizio quindi se poi qualcuno ha bisogno di contatto direttamente ti può chiedere insomma maggiori maggiori spiegazioni insomma tutto qui io allora vi ringrazio vi ringrazio di nuovo e faccio i miei complimenti insomma perché semplicemente perché Bianco prima diceva la fortuna aiutare gli audaci è vero cioè in realtà ho sottolineato il fatto che siete stati lungimiranti cioè avete pensato prima non sapendolo però questo mi rende merito perché voi come altre università non tutte in realtà non siete stati presi alla sprovvista ma avevate già qualcosa che a quel punto poteva essere ripreso a pieno regime ringrazio ancora tutti quanti per la partecipazione e vi do poi appuntamento sicuramente settimana prossima ci saranno ulteriori webinar sempre legati all'emergenza covid arrivederci e grazie grazie a tutti buona giornata grazie buona giornata grazie buona giornata grazie